Le parole della società dopo questo avvicendamento in panchina? Prima di parlare del nuovo tecnico doverlo so parlare del vecchio tecnico perché credo mai come oggi la decisione è stata sofferta però il calcio ha delle regole anche molto crude, i risultati purtroppo sono estremamente negativi quindi la separazione da Giovanni Pagliari è stata dolorosa dal punto di vista umano però credo anche comprensibile dal suo punto di vista professionale. Dovevamo provare a fare qualcosa, a dare stimoli nuovi a questo gruppo, è arrivato Mr. Magrini che è un allenatore Umbro emergente che ha voglia di confrontarsi con questa categoria che non ha mai allenato, allenato sempre in categorie inferiori come la seconda divisione o la serie D, ottenendo risultati importanti anche in piazze difficili come Grosseto per cui credo che abbia le caratteristiche. In questo momento ha dimostrato di avere la grinta, le motivazioni giuste per prendere questo incarico.